La novità in Technologics sta nel fatto che gli argomenti affrontati sono stati inquadrati all'interno dei settori economici di riferimento. La nostra società è organizzata secondo una precisa struttura economica e dunque è necessario secondo noi integrare lo studio dei processi tecnologici con quello dei settori economici. Technologics si divide così in tre macro aree, ognuna corrispondente a uno specifico settore economico e gli argomenti teorici sono stati riorganizzati ed inseriti all'interno del singolo settore di appartenenza. Il vantaggio di questa impostazione è che la relazione tra argomento trattato e il relativo contesto economico rimane costante qualunque sia la scelta di contenuto fatta dal singolo docente. Il processo di apprendimento in questo modo non si frantuma ma rimane coerente e compatto pur nella sua complessità anche se non si riescono ad affrontare tutti gli argomenti previsti nel testo. Apprendimento è reso attivo grazie al lavoro degli insegnanti di riferimento che possono trovare in tecnologics un valido supporto. Il testo offre infatti contenuti aggiornati, collegamenti con il mondo dell'innovazione e della sperimentazione e naturalmente tanto materiale digitale. Grazie ai QR code posti sulle pagine del libro, ragazzi e ragazze possono facilmente accedere a immagini parlanti, video, pagine di approfondimento, link che li collegano con siti ufficiali per ampliare i loro orizzonti e anche degli esercizi interattivi in lingua inglese. Inoltre con la versione digitale tutti quanti i ragazzi non soltanto quelli con bisogni educativi speciali possono ascoltare gli audio con la lettura delle singole unità del nostro testo. I giovani stanno svolgendo un ruolo da protagonisti nella lotta contro i cambiamenti climatici. Le recenti mobilitazioni a difesa dell'ambiente ci mostrano come le nuove generazioni abbiano un interesse ben radicato verso i temi dell'agenda 20-30. Quindi noi docenti abbiamo proprio il dovere di aiutarli a far fiorire questi semi di rivoluzione verde. Ecco allora il Green Book, un fascicolo leggero volutamente staccato dal libro di testo per poter essere usato in altre attività come ad esempio l'educazione civica o le prove di competenza. un velumetto che cerca di mostrare alla classe l'altra faccia della tecnologia, quella sostenibile. La tecnologia infatti ha contribuito sicuramente a creare molti problemi ambientali ma può anche riuscire a prevenirli e soprattutto può riuscire a risolverli. Inoltre il Green Book vuole essere uno stimolo per ragazzi e ragazze ad adottare comportamenti corretti nei confronti del pianeta ma alla fine nei confronti del loro futuro, per il loro futuro. Se con alcune schede pensate per far capire ai ragazzi e alle ragazze la strada che dovranno percorrere è infatti fondamentale che capiscano fin da subito il rapporto tra il disegno tecnico e le argomentazioni teoriche. Viste poi le difficoltà di coordinazione oculo manuale che mostrano oggi molti dei nostri alunni, il testo offre all'inizio del percorso attivo una serie di esercizi a difficoltà crescente per allenare gli occhi e le mani a preparare e preparare la classe per i successivi disegni geometrici. Poste le basi si procede poi con la geometria piana, con un attento studio delle tipologie dei solidi e poi con i classici metodi di rappresentazione. Il disegno tecnico e il disegno grafico completano il percorso precedendo alcune proposte di disegno da realizzare con il computer. Il nostro fiore all'occhiello sono le lezioni LIM. Si tratta di presentazioni sia in powerpoint quindi personalizzabili che in pdf per supportare i docenti nell'introduzione alla classe delle nuove tematiche. Forniscono un primo approccio diciamo all'argomento con dei concetti espressi in modo semplificato corredati da tantissime immagini differenti da quelle del libro. Alunni e alunne sono poi invitati a partecipare attivamente alla lezione attraverso delle specifiche richieste con delle slide dedicate. Per le attività di disegno invece abbiamo ritenuto utile offrire qualche cosa di nuovo rispetto ai classici video che comunque sono presenti nel testo e i docenti avranno infatti a disposizione alcuni disegni decorativi abbastanza elaborati già svolti per fasi successive da proiettare alla LIM. Potranno mostrare le più fasi in contemporanea per permettere agli allievi di elaborare secondo le proprie velocità e potranno soprattutto ingrandire a piacere i particolari più complessi del disegno cosa che con una lavagna tradizionale non si può fare. Grazie 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 Grazie